serie cento arfalla assaluti maschi corsia numero uno parte Giovanni Carossa a paloma nuoto alla due Thomas Ceccon Leo Sport corsia tre Andrea Facciola De Hacker corsia quattro Leonardo Vivercati De Hacker corsia cinque Matteo Pignotti De Hacker alla sei Matteo Bertoldi De Hacker corsia sette Stefano Raimondi De Hacker corsia otto Gabriel Saliu Mirano nuoto Saliu Mirano e allora ci siamo in vasca con la prima serie al termine della quale ancora in zona podio per le premiazioni della Rana e della farfalla Leonardo Vivercati corsia quattro vincitore questo pomeriggio dei cinquanta farfalla al suo fianco in corsia numero cinque Pignotti Vivercati Ceccon Raimondi queste le prime tre posizioni con Thomas Ceccon che ritorna in vasca dopo la bella prestazione dei cento dorso siamo alla virata dei settantacinque metri ancora Vivercati dovrebbe aver mantenuto il comando potrebbe soffrire nella ultima vasca ne approfitta Thomas Ceccon super subacqua super chiusura e dunque ennesima vittoria Thomas Ceccon cinquantaquattro e zero uno per lui Leonardo Vivercati cinquantacinque diciassette Pignotti terzo cinquantacinque venti che dire ancora grandi grandissime prestazioni qui alla piscina delle rose la vittoria Thomas Ceccon